Allora, siamo con Carlo Nesti, nuovo dirigente dell'Albisola, inizia questa avventura sulle sponde del Sansobia. Dopo l'esperienza con l'Alasio, quali sono le prime sensazioni? Beh, intanto voglio ringraziare pubblicamente l'Alasio perché mi ha consentito per la prima volta di trovarmi dall'altra parte della barricata. Io, come voi, ho sempre fatto il giornalista, non ero mai stato addetto ai lavori e grazie all'Alasio ho maturato un'esperienza preziosissima perché sì, puoi essere anche una persona che segue il calcio, che pensa magari di capire qualcosa del calcio, però trovarsi dall'altra parte della barricata è completamente diverso perché ci sono delle logiche, delle dinamiche come quelle dirigenziali, dello spogliatoio che il giornalista non sa o se le sa le apprende come notizia, ma non le deve poi gestire perché è all'interno della società. Quindi devo dire che è stata un'esperienza ottima e sono qui per cercare di fare quello che ho fatto soprattutto negli ultimi mesi con l'Alasio, cioè essere, scusate se uso un parolone, spero di poter essere un buon testimonial mediatico, cioè rappresentare come dirigente l'Albisola, proprio all'interno del mondo della comunicazione per parlare del passato, del presente e del futuro di questa società. Arriva in una società in forte ascesa, tre promozioni negli ultimi tre anni, quindi un ulteriore stimolo per cercare di far bene, per portare ulteriore esperienza a questa nuova squadra. Eh, ma l'aspetto curiosissimo è che a livelli completamente diversi ci sono delle similitudini fra Alassio e Albisola, perché anche l'Alasio quattro promozioni di fila, quattro Coppe Italia e Ligure di fila e a livello superiore l'Albisola tre promozioni di fila. Quindi sicuramente mi piace, cioè sono molto contento di lavorare per delle società emergenti, magari delle piccole e medie società emergenti, piuttosto che in una grande società, perché soprattutto per l'entusiasmo dal quale sei circondato, che alla fine contagia anche te e perché ci sono più cose da fare, quindi c'è più spazio e più possibilità anche così di cercare di mettere a frutto le proprie idee e anche, nel caso mio, le proprie esperienze.